Su questa Urocan STO troviamo questa telecamera al posteriore e anche un'altra qua sotto. Ma di cosa si tratta? Non è quello che potreste pensare. Non serve per gli ADAS. Sull'infotainment troviamo questo menu che è chiamato telemetria, da cui è possibile visualizzare tutti i dati registrati nell'ultima sessione di guida in pista. Seleziono il circuito e da qua si analizzano tutti i dati necessari per capire come si è guidato in pista. Quindi si può andare a vedere ad esempio ciò che è stato poi il tempo registrato e magari si può anche parametrare direttamente con un tempo demo, che può essere ad esempio questo, e da qui si vedono i vari grafici e ti dice come hai frenato, accelerato, eccetera, quindi come ti sei comportato in pista. I vari giri poi vengono registrati con queste telecamere che avete visto e quindi si può andare a visualizzare poi quello che si è registrato in pista.